La forte pioggia che da ora sta flagellando la Romagna potrebbe essere all'origine del gravissimo incidente stradale accaduto poco prima delle 8 di martedì a Savio, a pochi chilometri da Ravenna. Sulla variante, costruita qualche anno fa per alleggerire il traffico nel centro abitato della cittadina romagnola, una Chevrolet Kalos, condotta da una 49enne rumena residente a Cesenatico, ha invaso l'opposta corsia di marcia andandosi a schiantare contro un camioncino che trasportava surgelati condotto da un camionista calabrese residente a Reggio Emilia. L'impatto è stato violentissimo e la donna è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto. Immediata la richiesta di intervento per i soccorsi e sul posto, oltre all'ambulanza, è atterrato anche l'elisoccorso che però ha fatto scendere l'equipaggio ed è poi ripartito viste le difficili condizioni meteo che avrebbero reso pericoloso il trasporto della donna. I vigili del fuoco hanno impiegato 20 minuti per estrarre la donna dalle lamiere contorte ed è stata affidata al personale del 118 che ha provveduto ad intubarla, sottoporla ad adrenalina ed è stata condotta in ambulanza al Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Per consentire il normale svolgimento dei soccorsi e del recupero dei mezzi, la statale è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia e il traffico è stato deviato dentro il centro abitato di Savio. I carabinieri hanno provveduto a regolare il traffico in arrivo da sud e la polizia municipale i mezzi provenienti da nord. Da chiarire le cause dello sbandamento della vettura che ha invaso l'opposta corsia di marcia, ma non si esclude che la pioggia battente sia una probabile causa, come non si esclude l'uso del cellulare alla guida.